Riapertura delle scuole. A Teramo si torna lentamente alla normalità. Lunedì 14 novembre riapriranno tutte le scuole superiori, materne ed elementari della città. Solo due le eccezioni. La materna di Via Tevere, il cui rientro è previsto per giovedì 17, e i 630 studenti della scuola Media Savini, che con i 280 della scuola primaria San Giuseppe, saranno accorpati nell'edificio Molinari e che riprenderanno le lezioni il 21 novembre. La Molinari diventerà un piccolo polo scolastico. Riaprirà il 21 novembre. Quanti all'unni verranno? 800. Superiamo gli 800 ragazzi che entreranno su questo edificio. Stiamo facendo tutti i lavori. Prima qui vi era la sede dell'università, quindi dobbiamo apportare delle modifiche, soprattutto perché avevano fatto delle tremezzature sulle stanze, perché servivano dei locali più piccoli, e quindi noi ripristiniamo quelle che erano le stanze della normale scuola. Questo edificio, tra l'altro, ha palestra, refettorio. È veramente una grossa struttura importante, però un po' il centro si svuoterà. Questi sono chiaramente degli aspetti importanti che dovremo valutare nel tempo, anche perché avremo tutto il tempo per riflettere, per vedere se la Savini, la D'Alessandro, la San Giorgio oppure le altre scuole vanno ripristinate e chiederemo magari dei fondi per poterli appunto portarli a una sicurezza tale da poterli riaprire. E il futuro polo scolastico ci sarà mai a Teramo? Il futuro polo scolastico noi abbiamo presentato una progettazione che ha avuto tutti i via liberi, sia comunali sia regionali, è depositato a Roma. Noi aspettiamo sempre perché venga finanziato. Ma Teramo rientra nel cratere? Ne sono convinto, ne sono convinto perché Teramo ha i danni perché debba rientrare nel cratere. Me lo auguro perché se no veramente dovremmo sicuramente lamentarci di questo.